Enzo Paolo Turchi, il brutto commento, lo scivolone su Marco Garofalo Il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi ha fatto parlare di sé per una gaffa venuta nella casa del grande fratello. Durante una conversazione, ha citato il collega scomparso Marco Garofalo, mettendo in dubbio il suo talento artistico. Turchi ha raccontato che Garofalo, prima di diventare noto, aveva collaborato con lui, ma non come ballerino di rilievo a causa di alcuni problemi fisici. Lui mi aiutava in casa, faceva le pulizie e queste cose, ha detto, lasciando intendere che il ruolo di Garofalo fosse marginale. Queste affermazioni, tuttavia, hanno scatenato polemiche e la regia del programma ha rapidamente interrotto il collegamento, cercando di evitare che i telespettatori assistessero all'intera scena. Non si è fatta attendere la replica di Marco Salvati, noto autore televisivo, che ha collaborato con Garofalo in numerosi programmi come Ciao Darwin e, avanti un altro. Salvati ha espresso indignazione per le parole di Turchi, sottolineando l'importanza del contributo artistico di Garofalo. Ha dichiarato che, al contrario di quanto affermato da Turchi, Garofalo è stato un coreografo di grande valore, a differenza di altri che non hanno raggiunto lo stesso livello. Ricordarlo così è davvero irrispettoso, ha commentato sotto uno dei video della discussione, circolato rapidamente online. Marco Garofalo, nato a Roma nel 1956, ha avuto un percorso artistico significativo. Dopo un infortunio che lo costrinse ad abbandonare il calcio, si dedicò alla danza, iniziando a studiare a 21 anni. Solo pochi anni dopo, nel 1978, approdò in televisione e nel 1989 intraprese la carriera di coreografo lavorando a grandi show come Lascia Ora Doppia. Garofalo ha collaborato con artisti di fama come Lorella Cuccarini, Eder Parisi e Matilde Brandi, dimostrando il suo talento e la sua capacità di innovare le coreografie televisive. Dal 2009 al 2010, ha anche ricoperto il ruolo di insegnante ad amici, portando la sua esperienza e passione a una nuova generazione di ballerini. La sua vita si è conclusa nel 2018, dopo una lunga lotta contro una malattia. L'episodio ha aperto un dibattito su quanto sia importante ricordare le persone per i loro meriti, soprattutto quando non possono più difendersi. Cosa pensate di questa vicenda? A voi i commenti Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.